buon salve people ed eccoci una nuova guida su diablo 4 sul come livellare velocemente l'obiettivo è raggiungere almeno il livello 50 perché tecnicamente è la soglia necessaria per affrontare la missione principale e sbloccare la modalità incubo difficoltà che vi darà un bonus più corposo all'esperienza guadagnata e che coincide con il massimo dei punti abilità che vi verranno offerti dal gioco quindi come fare per arrivare in fretta al 50 la risposta più semplice e scontata è ricorrere al power leveling se avete un amico con un personaggio di livello alto dal 70 in su diciamo potete chiedergli di boostarvi di power livellarvi come si fa create una partita con un pg a livello 1 a livello di difficoltà veterano e fate la spedizione principale della cattedrale della luce per sbloccare il tier 3 ovvero la difficoltà incubo questa spedizione ha un livello consigliato di 50 ma non ha un livello minimo quindi entrate con il vostro pg a livello 1 state all'ingresso mentre il vostro amico entrerà e truciderà qualsiasi cosa nel dungeon per voi tranquilli l'esperienza arriva lo stesso pur restando all'ingresso finito il dungeon uscite settate la difficoltà a livello 3 incubo e andate a fare anche la spedizione principale per il livello tormento che sbloccherà il tier 4 siccome non avrete tutti i punti di rotta sbloccati ma soltanto le capitali se ovviamente le avete sbloccate con il pg principale e state livellando un personaggio secondario potete farvi scortare da un vostro amico verso il dungeon perché sì i mob per strada potrebbero avere qualcosa da ridire al riguardo entrate nella spedizione principale state all'ingresso mentre il vostro amico triterà qualsiasi cosa e avrete sbloccato anche la modalità tormento ora innalzate il livello di difficoltà a tormento appunto e buttatevi in un dungeon qualsiasi lasciando il vostro amico a pulire tutto quanto mentre voi dovrete stare solo fermi e vedere l'xp piovervi addosso in un'oretta circa si può portare comodamente un personaggio a livello 50 stando davvero all'ingresso a fare niente non preoccupatevi di dover andare a recuperare gli eventuali leggendari che cadranno dai nemici sconfitti e che non potrete raccogliere in queste sessioni perché finiranno tutti automaticamente nel vostro forziere personale in città detto ciò se non avete un amico di alto livello e siete da soli o con amici di livello pari al vostro dovrete farvi tutta la faticata con le vostre forze quindi ecco un paio di consigli ve li do lo stesso se è il vostro primo personaggio il mio consiglio di fare tutta la storia principale che vi fornirà un bel po di esperienza e raggiungere la cavalcatura che si ottiene a circa tre quarti della campagna fare solo la storia purtroppo non sarà sufficiente per raggiungere il livello 50 e sbloccare la modalità incubo quindi dovrete integrare delle altre attività secondarie mentre se state livellando un personaggio secondario la storia la salterei proprio a pie pari ci sono troppi spostamenti troppi tempi morti quindi il livellamento non è per nulla efficiente i miei consigli sono tre create un bel po di pozioni per avere un 5 per cento di bonus all'esperienza livellate sempre a modalità avventuriero e alzate a veterano quando sbloccherete abilità particolari specializzazioni o anche solo troverete dell'equipaggiamento particolarmente forte fate le missioni dell'albero dei sussurri per avere buone ricompense sia in termini di xp che di equipaggiamento e soprattutto cercate di livellare in gruppo e sulle stesse missioni mentre grindate in modo da avere il bonus all'esperienza che la modalità in gruppo fornisce se invece volete grindare mostri per livellare così all'infinito senza fare missioni la soluzione migliore è fare le spedizioni e ci sono dei dungeon con una densità di mostri maggiore rispetto ad altri quindi sceglieteli con cura e fate tutti gli eventi random che offre la spedizione i migliori al momento sono i cunicoli oscuri e le acque stregati a hawezar scavi abbandonati in kejistan e ovviamente la cattedrale dei crociati purtroppo però hanno nerfato anche questa modalità poi ragazzi il mio consiglio comunque soltanto uno cercate di godere dell'esperienza del livellamento almeno con il vostro personaggio principale senza ossessione di voler ottenere il livello 50 prima possibile ma godendovi tutto il viaggio facendo tutte le attività che il gioco propone anche per renderlo meno noioso e meno frenetico discorso diverso invece per il livellamento di un personaggio secondario dove l'obiettivo invece è chiaramente quello di avere un personaggio pronto per essere giocato al suo massimo livello benissimo people questo è il video inerente il livellamento i miei consigli per livellare facilmente verso il livello 50 trovate in descrizione il mio canale discord dove c'è tutta la mia community cercate i clan room walkers ufficiali all'interno del gioco di diablo validi per tutte le piattaforme pc playstation xbox e lasciatemi un commentino dicendomi se questa guida vi è stata utile o se avete delle domande particolari sarò lieto di rispondervi detto questo non mi resta altro che augurarvi buon divertimento gamers e alla prossima